Voci e silenzio di la nona elica Si fa un gran parlare di programmazione neurolinguistica, di finestre di overton, di raffinate strategie di comunicazione, ma alla fin della fiera il metodo usato è più o meno sempre lo stesso. Quando vogliono preparare il terreno lasciano uscire l'evanescente voce di corridoio tra affermazione, suggerimento, precisazione e negazione, il passo è sempre breve e molto sfumato. Possono gettare l'esca al pubblico giusto per vedere l'effetto che fa e poi lasciare che le acque si increspino o si calmino a seconda di come decidono di far tirare il vento. Per ogni nuova trovata il meccanismo è sempre lo stesso. Basta organizzare una conferenza, prendere un pirra qualunque tra i burattini che ricoprono le varie ed infinite cariche istituzionali, mettergli in bocca una sparata clamorosa in grado di creare il giusto scompiglio e dare l'opportuna risonanza al tutto ricorrendo ai servigi delle sempre fameriche «prestitutes», gravile sintesi tra pres, stampa e prostitute. Non importa quale sia l'ambito, è l'effetto che conta perché se sei capace di scatenare la paura nella popolazione allora avrai gioco facile anche nel governarla. Se crei tu la leva su cui si innesca un dato movimento avrai il vantaggio di essere sempre in anticipo sui tempi. Le voci di corridoio, strumenti antichi quanto il mondo, semplici eppure efficacissimi nel direzionare le masse a piacimento e ore enormemente amplificate da internet che grazie ai social riesci ad essere pervasivo più di quanto lo siano mai stati famigerati media tradizionali. «Tizio ha detto questo!» «Caio ha detto quest'altro!» «Ci è scoperto che…» «È trapelato da…» «Insomma, è tutto un giro di giostra!» Allora, se non ci vogliamo far portare a spasso a loro piacimento, forse è il caso di limitare la nostra caccia di notizie. Una sovraesposizione alle informazioni è esattamente quello che vogliono, perché è in grado di paralizzarti e renderti così totalmente innocuo. E fare piuttosto un lavoro di accrescimento sulla nostra capacità di lettura critica. Perché, così come non è tutto oro ciò che luccica, allo stesso modo non è vero che ogni tunnel che ci viene prospettato non ha via d'uscita. Sta a noi rimanere lucidi e trovare le incongruenze, le crepe, le debolezze nell'impianto del sistema. Sta a noi capire che razza di problema possiamo costituire per il regime. Perché, se si danno tanto da fare per direzionarci e mantenerci sotto pressione, significa che un nostro uscire dai loro recinti è prospettiva per loro estremamente pericolosa. Sta a noi non farci plagiare dai soliti imbonitori dell'andrà tutto bene, versione 2.0, e tantomeno da quella comunicazione mainstream che è organicamente volta a plagiare il nostro pensiero. Quindi, informarsi per conoscere davvero, senza farsi prendere per culo, all'insegna dello zero tifoserie da stadio e zero illusioni in salvatori, ma neanche allarmismi alla prima boutade e preoccupazioni a non finire. La situazione è grave, e forse pure seria. CBDC, ID e Cazzi e Mazzi sono in viaggio verso la nostra prossima realtà quotidiana. Ma il nostro assenso, la nostra collaborazione, rimangono fondamentali. Certo, il rifiuto comporterà delle conseguenze, ma il rifiuto è ciò che più temono. Perché il no è proprio ciò che, in ultima analisi, se noi decidiamo di rimanere fermi, non ci possono levare. In cuor nostro dobbiamo solo prendere questa decisione per un rifiuto definitivo e non negoziabile. È allora che ci accorgeremo di una nuova serenità interiore, quella di chi sa che sta facendo e farà la cosa giusta. Quella che non conosce esimenti o giustificazioni per mancate prese di posizione, ma va per i fatti suoi, a prescindere. Quella che non può essere scalfita da niente e da nessuno. È lì che scopriremo che anche le voci di corridoio più insistenti si fanno prima ovattate per poi svanire. Del tutto. È lì che si farà silenzio. Tutto attorno a noi. Ed è solo lì che potremo dismettere i panni di marionette gestite dall'alto per riscoprire finalmente la pienezza e la potenza del nostro essere umani. La nona elita.